Ricordo che da piccola tutti amavano i miei occhi. Dicevano che erano luminosi come il cielo e profondi come il mare. Erano un lago in cui ci si poteva specchiare e perché no, magari anche farci una nuotata. Mio papà ogni sera, quando veniva a darmi il bacio della buonanotte, diceva che migliaia di stelle erano cadute dal cielo, briciolandosi, ed erano scivolate nei miei occhi. A me questa storia faceva ridere. Dopotutto quanto deve far male un pezzo di stella, seppur minuscolo che ti finisce dentro l'occhio. A me dava fastidio persino un'innocua ciglia, figuriamoci. Lucia è la mia migliore amica. Lei si arrabbiava molto perché credeva che i ragazzi guardassero solo me. Tutta colpa dei tuoi enormi occhioni azzurri, diceva. In realtà non era vero. I suoi occhi sono bellissimi. Delle pagliuzze di smeraldo di un verde luccicante. Io glielo dicevo, ma lei non voleva saperne. Riusciva solo a guardare i miei. Il secondo anno delle superiori Marco mi chiese di uscire. A dire il vero lo disse ad un suo amico che conosceva una mia amica la quale era la cugina della mia compagna di banco. O forse, vabbè non ricordo. Quello che ricordo è che passavamo tutto il pomeriggio in quel bar. Ci inventavamo storie buffe sulle altre persone sedute vicino a noi e facevamo a gara chi riusciva a mangiare più bustine di zucchero. Quella sera mi venne un mal di pancia incredibile, ma non mi importava. Tempo dopo, mentre mi riaccompagnava a casa, mi recitò questa poesia. Occhi bellissimi in cui perdersi. Occhi bellissimi in cui ritrovarsi. Se concitono, è amore. Sostenne di averla scritta lui. In realtà trovi su internet il vero autore, ma non glielo dissi mai. Non mi importava. Nonostante ne avessi sentiti tanti di complimenti sui miei occhi, questa volta era diverso. La parte sua significava qualcosa di più. Il 27 gennaio mi alzai con un fastidiosissimo dolore alla testa. Dopo un paio di giorni andammo dal medico perché quel dolore non mi era ancora passato. Lui ci consigliò di andare da un ottico. Per qualche mese portai un grosso paio di occhiali maculati. Il mal di testa andava e veniva. E ogni volta che tornava avevo l'impressione che fosse sempre più forte. Mi toglievo gli occhiali e infilavo la testa sotto l'acqua. Ad un tratto, mentre passeggiavo con Lucia, cominciò a girarmi la testa. Ci sedemmo su una panchina lì vicino e tutto cominciò a diventare sempre più scuro. Fino a scomparire. All'improvviso il nero. Ricordo la confusione, la paura, la rabbia. Non capivo. Non capivo il perché. Ricordo tantissime voci attorno a me che gridavano e piangevano. Di quegli anni ricordo la solitudine, il vuoto, il silenzio. Non riuscivo nemmeno a piangere. Avevo la costante sensazione di cadere nel vuoto. Ogni sera andavo a dormire e lì trovavo la pace. Dormivo pochissimo, ma almeno mi sentivo normale. Il buio non mi faceva paura con la testa appoggiata al cuscino. Per questo non volevo alzarmi mai dal letto. Non volevo svegliarmi. Volevo restare lì sdraiata e aspettare che tutto finisse. Tutto finirà prima o poi. Me lo ripetevo spesso. E aspettavo. Poi cominciai a frequentare un centro di aiuto per persone cieche e ipovedenti. Qui conobbi Alessandro, un educatore in servizio che mi aiutò a superare il mio rifiuto alla vita. Mi faceva ridere. Mi ascoltava. Prima della vista ritrovai la speranza. Di tornare a studiare, di lavorare, di amare una persona, di avere una vita normale. Fu il momento dell'aurora. Una luce, da prima a fioca, poi sempre più calda, si fece strada dentro di me. Alessandro mi disse che nasciamo con due occhi proprio per poterne regalare uno a chi ne ha bisogno. Non importa di quali occhi si tratta. Sei tuoi o quelli di un'altra persona che ti vuole bene. Per ogni minuto che li tieni chiusi, perdi 60 secondi di luce. Per ogni minuto che ti vuole bene.